100 treni in più e collegamenti tramite bus riportati all'85% del servizio ordinario. Il primo giorno del trasporto pubblico locale nella fase 2 dell'emergenza coronavirus, con il primo allentamento delle restrizioni e 200.000 lavoratori in più in circolazione in Toscana, è trascorso senza grandi intoppi, in applicazione delle prescrizioni emanate dalla regione in un'apposita ordinanza. Per quanto riguarda i treni non si sono manifestate situazioni di particolare affollamento, anzi nonostante la riduzione dei posti disponibili, la capacità residua che è stata registrata nella giornata di oggi ci fa ben sperare anche per quanto riguarda i prossimi giorni. Anche il trasporto su autobus ha retto l'impatto con situazioni di potenziale affollamento nelle zone urbane di Firenze, Prato e Lucchesia, che sono state risolte con la rapida attivazione di corse, bis e tris. L'unico episodio di ordine pubblico è accaduto a Pistoia, dove alcuni giovani hanno cercato di salire tutti insieme su un bus e senza pagare il biglietto. Ovviamente nei prossimi giorni ci aspettiamo ulteriore afflusso di persone e quindi noi stiamo raccogliendo ora per ora e lo faremo giorno per giorno tutte le segnalazioni che provengono dall'utenza, che provengono dalle aziende, dalle amministrazioni comunali per poter calibrare e riparametrare al meglio il servizio per poter soddisfare anche le persone che nei prossimi giorni probabilmente saranno in leggero aumento.